Inizia una nuova puntata ovviamente di G-Style con la presenza femminile delle nostre due amiche che sono Lena e Iuna insieme a Stefano D'Alberto che dovrà riuscire a resistere alla loro presenza qui vicino a me per lanciare questo nuovo appuntamento, un nuovo appuntamento dove ci sarà tra l'altro da vedere il Luxury Temple, questo nuovo locale legato al New Gilda, la grande struttura. Siamo stati lì ma non solo al New Gilda, siamo andati anche a vedere quello che accade chiaramente a Spoltore, all'Arca dove siamo spesso e volentieri con i vari servizi ma in questo caso abbiamo seguito l'evento dedicato alla Befana. Un altro appuntamento importante legato al fitness, alla Zumba Fitness, intervista con Olga che ci ha sicuramente ragguagliato su queste cose, scusate la distrazione e poi c'è stata una grande reunion tra Marco Papa, Vincenzo Di Vieri, Tiziana Di Tonno, siamo stati al Palacongressi di Montesilvano, abbiamo intervistato anche il grande e amico Gio Di Tonno. Siamo stati tra l'altro, spero di arrivare alla fine del programma, anche a seguire un altro appuntamento, ovvero un'intervista con due giovani produttori abruzzesi e sono ovviamente Fly S e Tom Beaver, di cui vedremo un po' delle loro produzioni, insomma una puntata di G-Style interessante ma più interessante devo dire la loro presenza, teniamole più spesso. Ragazzi avete da fare? Ciao G-Style! Con il tuo smartphone puoi vederci quando vuoi, su Youtube G-Style TV G-Style questa volta racconterà quello che è stato un grande evento di Capodanno realizzato al New Gilda Luxury Temple, abbiamo qui con noi Mattia che sarà pronto un po' ad illustrarci sia la notte di Capodanno ma anche un po' quelli che sono gli obiettivi di questa grande struttura e com'è nata, puoi anche raccontarci un po' l'idea partendo dall'origine e poi arriviamo chiaramente a raccontare la notte di Capodanno. Sì, il Luxury Temple è nato da un annetto più o meno, dopo un'esperienza ventennale già del New Gilda e quest'anno è il secondo Capodanno che realizziamo sempre con un buon riscontro da parte dei nostri clienti. Capodanno che realizziamo sempre con un buon rischio, quindi abbiamo! Capodanno che realizziamo sempre con un buon rischio. Capodanno che realizziamo sempre con un buon rischio, quindi abbiamo già fatto un buon rischio 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Buon 213, ci auguri! Stefano, a San Valentino che fai? Guarda, chiediamo a Mattia Sì, chiediamo a lui, non so Sì, a San Valentino siamo aperti non solo per le coppie ma anche per i gruppi di ragazzi che si vogliono divertire e sarà una serata per stare insieme e magari per conoscere il proprio animo al gemello Quindi possiamo andarci? Ovviamente, se ne andate Stasera siamo al Luxury Temple dell'New Childa a festeggiare la notte del 2013 festeggiamo il nuovo anno e lo festeggiamo così G-Style Bene, ci vuoi raccontare qualche dettaglio di riferimento alla festa della donna? Per l'8 mazzo sicuramente proporremo un menù a base di pesce con la formula aperitivo cenato o con la formula cena e apriremo anche la zona superiore con i divanetti dove comunque tutte le donne saranno libere di accomodarsi sempre dove vogliono e ci sarà sempre Gianni Mucci come animatore Abbiamo visto tanta comunicazione che legava ovviamente la vostra struttura a quello che è l'evento del Gran Galà degli Sposi come si fa ad accedere a questo appuntamento? Allora, il Galà degli Sposi è una cena che noi offriamo a tutti gli sposi 2013 qui gli sposi potranno degustare il nostro menù e valutare anche le nostre torte, i nostri tovagliati e tutto ciò che poi riguarda il loro giorno speciale Allora, il Galà degli Sposi è una cena che si fa ad accedere a tutti i nostri toglie di Sposi Allora, il Galà degli Sposi è una cena che si fa ad accedere a tutti i nostri toglie di Sposi Andiamo a concludere il nostro incontro insieme a Mattia che ci ha parlato del New Gilda Luxury Temple con un ultimo messaggio Sì, sono aperte le prenotazioni per il 2014, veniteci a trovare La cosa a me non ci riguarda, credo Forse, ma chissà, non si può mai sapere, no? Salutiamo, ma... Ciao 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 G-Style va in onda sull'ATV, canale 274 del Digitale Terrestre il mercoledì alle 24, il giovedì alle 24.30, il venerdì alle 19.45 e il sabato alle 24.30.